Buongiorno, buongiorno e bentrovati in questa edizione di mattino 6, venerdì 5 maggio, pronti a sfogliare le pagine dei quotidiani sia quelli locali sia quelli nazionali, in particolare le prime pagine delle testate nazionali e poi rivedremo alcuni dei servizi realizzati dalla redazione del TG6. Partiamo subito con le prime pagine dei quotidiani locali, partiamo dal centro, questa l'apertura, ecco gli ospedali a rischio sismico, la mappa fatta dalla regione elenca 24 presidi, scattano i test di vulnerabilità delle ASL, sotto la testata legittima difesa o che dalla camera si potrà sparare di notte in casa, questo sarà uno dei temi principalmente trattati nelle prime pagine delle testate nazionali che vedremo tra pochissimo. E poi inchiesta su Rigopiano, gli avvocati dei familiari, dateci i risultati delle autopsie. E poi ancora al centro la fotonotizia, parte il Giro d'Italia, il 14 la tappa in Abruzzo, ci vediamo al Blockhouse. E poi ancora per la politica estera, Francia le urne, voto e tensioni, lancio di uova contro le PEN. Consiglio regionale, sicurezza delle scuole, la protesta dei comitati. Di spalla ancora a Pescara, strade piene di buche, cresce la protesta. E sempre a Pescara, sesso in stazione, maxi multa da 6 mila euro. In basso per lo sport, Platini visita in Abruzzo, ieri a Casalbordino, oggi a Guilmi, l'ex fuoriclasse della Juve sbarca a sorpresa nel Vastese. E poi sul fronte Pescara, Sebastiani a Iannascoli, hai la coda di paglia. La prima pagina del messaggero Abruzzo, questa l'apertura, ospedali troppi interventi, il monitoraggio post commissariamento ridurre le operazioni all'anca e parti cesarei, migliora l'assistenza, ancora criticità finanziaria, il 15,9% dei pazienti si cura fuori regione. Sotto la testata, mestieri, i nuovi lavori, intagliare frutta e creare super tessuti. E poi ancora Avezzano, danneggiata l'auto del presidente, Gianni Paris, ancora il caso Montari, alta tensione, Montari rifiuta il tapiro di strisce, il giocatore del Pescara ha detto no all'inviato Valerio Staffelli, l'amarezza di Caprari. Abbiamo veramente buttato un campionato. E poi ancora di spalla ad Alfonso le inchieste non mi hanno intimorito. E poi ancora il presidente in aula, vorrei spiegare, ma non conosco le accuse. La fotonotizia del Rio al posto dei bersaglieri, l'inaugurazione del Ponte Nuovo. E poi in taglio medio si rovescia la porta di calcio, grave bambino di otto anni avvenuto a Celano. Il baby atleta colpito alla testa dalla traversa, prognosi riservata. E poi in basso la staffetta, la partita in A, di re e regine. E andiamo a vedere la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. L'ufficio sisma resta al genio civile. Per ora niente sede al Parco della Scienza, i locali del comune non sono idonei per le attività. E poi la politica con le fibrillazioni sempre in seno all'amministrazione comunale di Teramo, con le dimissioni ancora in corso del sindaco Brucchi. Crisi al buio senza alcun passaggio in Consiglio. E poi ancora, intanto si cerca la quadra con una giunta a sei e Dodo conferma, io e Mariani, democristiani. Al centro la fotonotizia, premio Teramo, trionfo rosa, tre donne vincitrici per l'edizione numero 44. Di spalla, siamo sulla costa, Roseto degli Abruzzi, corsa contro il tempo per il Lido La Lucciola. A Giulianova, D'Alfonso dà un'altra buca sull'ospedale e a Tortoreto, ennesimo dietro front per Piccioni. Quindi in basso cucina lo chef tristellato, Heinz Beck, in giuria all'istituto di Poppa. E poi ancora la riflessione di Marcello Martelli, la locomotiva che non riparte. Adesso possiamo spostarci per vedere le prime pagine delle testate nazionali. Partiamo ovviamente dal Corriere della Sera. Subito, come detto, il tema della legittima difesa in primo piano, infatti guadagna l'apertura del Corriere, legittima difesa, primo sì alla legge, ma Renzi la boccia. Tensioni in aula? No a insabbiamenti. Poi la fotonotizia, io, mio padre e il Papa Marine Le Pen si racconta al Corriere. E poi patto con Google, il fisco in cassa 306 milioni di euro. Avanti con la prima pagina di Repubblica. Legittima difesa, il PD diviso, Renzi la legge va cambiata. Non punibile chi spara di notte in caso di pericolo. No di MDP e 5 Stelle, la destra fa bagarre. E poi ancora le storie, il rallentatore, i residenti di Caracas, la vita di Chilotta nell'inferno di Maduro, così in Venezuela nel sogno di Chavez, tramonta tra violenza e carestia. E poi per la cultura, perché Dante vince la sfida con Cervantes e con Shakespeare. Poi fisco da Google, arrivano 306 milioni, Airbnb sottotiro, Padoan. Ora web tax. Avanti con il messaggero, sparare ai ladri, crepe dopo il sì. Primo via libera alla legge sulla legittima difesa, bagarra la Camera, il no della Lega e Forza Italia. Renzi la boccia, norme blande, si cambia al Senato, alle rapine si potrà reagire non solo di notte. E poi ancora, edizione numero 100, scatta il giro, Roma ignorata, doping esclusi, due corridori. Purtroppo ieri già i due primi casi di doping al giro che hanno interessato due corridori della Bardiani. Gran Bretagna, il principe Filippo non ce la fa più, addio agli impegni pubblici a 96 anni. Avanti ancora, vediamo in taglio medio, intanto la fotonotizia. Uova contro le pen, Macron vola nei sondaggi, denunciata per le false accuse sul conto del rivale al Bahamas. E poi pubblicità al telefono, scontro sui divieti, a rischio la privacy, il garante soro, il Senato ha tolto il consenso preventivo. Calenda, no, consumatori più tutelati. E poi in basso il caso vaccini, morbillo, in un anno sono quintuplicati i bimbi contagiati. La prima pagina del giornale. Indifesi come prima, nuova legge, non cambia nulla. Notte o giorno, chi spara ai ladri rischia ancora. Decide il giudice e la battaglia per la sicurezza riunisce il centrodestra. Poi al centro, uova sulla Le Pen, Francia in crisi di nervi. Quindi, riforma elettorale, il rinvio di sette giorni sposta il voto al 2018. Di spalle, come abbiamo visto poco fa, Filippo in pensione, si ritira il principe sfaccendato, imperatore di GAF. E poi in taglio medio il CSM sta con il PM che indaga le ONG. Rinforzi per l'inchiesta, ma continuano i soccorsi in mare. La prima pagina del tempo. Ora siamo vittime pure dei politici. Legittima difesa. Passa alla Camera il pastrocchio. La rabbia di chi si è protetto e ora è nei guai. Questa legge è una presa in giro. Lo Stato prima non ci ha sostenuto. Adesso ci ripaga così. E poi la fotonotizia. Il rispettore Fioroni nel covo delle BR spari sull'Arena di Moro. Surreale Blitz avvia Montalcini. Commissione e RIS a caccia di indizi. E poi indietro non si va. Silvio respinge la corte di Alfano. Vuoto il pressing dell'ex Delfino. La stampa. Questa l'apertura. Deficit. La rivolta contro Bruxelles. Un documento d'Italia, Spagna, Francia e Portogallo. La commissione sbaglia i conti. Lettera dei ministri del Sud. Tenere conto della bassa crescita. Fisco Google versa 306 milioni per le tasse 2002-2015. E poi le battaglie per l'ambiente. Vediamo questa foto con cassonetti stracolmi di immondizia. Il piano del nord per pulire i nostri cieli. E da quest'altra parte l'emergenza rifiuti che invade Roma. La prima pagina del fatto quotidiano. I giustizieri della notte. La Camera vara la legge che peggiora quella di Castelli e Berlusconi per inseguire Salvini. In Senato decisivi i bersagnani. PD e Alfano approvano la licenza di uccidere ma solo al buio. E poi tra le reazioni Bruno Tinti scrive una riforma criminogena che aumenterà gli omicidi. Per Achille Serra ma che sicurezza hanno in testa soltanto le urne. E le parole anche del filosofo Massimo Cacciari. Che poveracci questi dem vanno dietro alle destre. E poi in taglio medio tutto quel che ci nascondono i padroni di vaccini e farmaci. Chi finanzia lo studio pubblico sull'HPV? L'azienda che vende la prevenzione. Il mattino la burocrazia resta il male del sud. Le parole del ministro Padoan. Completare la legislatura da sempre la nostra linea. Sto con Macron o meglio a programmi. La prima pagina di avvenire. Il titolo d'apertura. ONG. La campagna da frutti velenosi. Raid di Forza Nuova all'Agenzia Migranti ONU. E poi ancora il manifesto. Mezzanotte di fuoco. Licenza di sparare ai ladri di notte. La Camera modifica il codice penale. Riforma con pochi voti della maggioranza. La legge sulla legittima difesa. Alla destra non basta ma usare le armi sarà più facile anche di giorno. La Gazzetta del Mezzogiorno. Giustizieri solo di notte. Putiferio per l'uso delle armi. Consentito in casa solo dopo sera. Migranti soccorsi. Si difendono le ONG. Noi sempre trasparenti. E poi il secolo XIX. Europa. La rivolta del sud. Lettera d'Italia, Francia, Spagna e Portogallo. Regole sul deficit da cambiare. Puoi tenere presente la crescita ridotta. Primo colpo di Trump all'Obamacare. Quindi l'unità sulla loro pelle. La battaglia a destra tra Movimento 5 Stelle e Lega. Chi è più populista mortifica il lavoro umanitario nel Mediterraneo. Indagano tre procure ma la Guardia Costiera ricorda. Salvare le vite è un obbligo. La verità. Il mondo alla rovescia. Lo processano per aver usato dire che ai figli servono mamma e papà. Lo psicanalista Giancarlo Ricci deve comparire davanti al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi. L'accusa. La sua affermazione è discriminatoria nei confronti delle coppie omosessuali e delle famiglie Arcobaleno. E poi Macron perde la testa e denuncia la Le Pen. Possiamo chiudere qui con le testate nazionali e possiamo tornare su quelle locali. In particolare sul centro che andiamo a sfogliare partendo da pagina 2 e 3 dove l'argomento principale è il rischio sismico. E possiamo vedere ospedali abruzzesi. Nessuno è a norma sui 24 esaminati. Ecco la mappa fatta dalla regione. All'ultimo posto c'è la lavecchia del presidio di Sulmona. Lo spirito santo di Pescara è la struttura migliore. Male invece Popoli, Giulianova e Chieti. Nella parte alta e rassicurante della classifica si piazzano Vasto e Atessa. In quella bassa c'è Avezzano. La regione ha sollecitato i manager ASL ad effettuare le verifiche tecniche. Parla l'assessore alla sanità Paolucci. Interveniamo. Non siamo inermi. Il nuovo polo cardiochirurgico di Chieti dimostra che dobbiamo agire. Anche i medici della NAU dicono che stiamo facendo la cosa giusta. In ogni caso sarà risolto in modo specifico a Teramo. L'ospedale sarà unico. E poi ancora tocca alle ASL. Entro giugno le nuove verifiche tecniche. Pescara le ha già inviate alla regione. Chieti le sta facendo. Stesso discorso per l'Aquila. E Teramo punta sul progetto dell'ospedale unico provinciale. A Sulmona il presidio più in sicuro, come abbiamo visto. Viaggio negli ambulatori della Lavecchia dell'ospedale da svuotare, da abbattere. Pagina 4. Anche in questo caso rischio sismico. Si parla più di scuole. Scuole insicure. La protesta dei comitati. 300 strutture a rischio. Delegazione ricevuta in regione dai capi gruppo Lolli. Dice non ci sono soldi per nuovi edifici. Poi ancora nuovi ospedali. La regione non può indebitarsi. In analisi sulla situazione normativa contabile esclude la possibilità di contrarre altri mutui. In tre punti la risposta del capo dipartimento alla nuova e specifica richiesta dell'assessore Paolucci. In vista del project financing di Chieti incide anche il ritardo dei rendiconti. Poi in basso si al piano da 3 milioni e mezzo per gli asili nido. Via libera della giunta regionale per i lavori sulla sicurezza. Ecco l'elenco delle strutture. In chiesta di Rigopiano. I vigili del fuoco vogliono essere ascoltati. Il sindacato autonomo dei pompieri scrive alla procura. Mentre i legali delle famiglie chiedono i risultati delle autopsie. Andiamo avanti con la pagina sulla regione Abruzzo. Consiglio regionale. Sbloccati gli interporti. Ok all'osservatorio legalità. Il governatore D'Alfonso sollecitato da Pettinari del Movimento 5 Stelle. Non parla dell'inchiesta per scaraporto. E attacca la campagna di denunce in atto nei suoi confronti. Poi ancora, Brenda Adriatico per incrementare la croceristica. Antonio Nervegna. L'Abruzzo si muova. Avanti ancora, corsa alle risorse del Masterplan. Borghi, ospitali e polemica. Tollo c'è, gli altri comuni no. Dalla denuncia di Febbo alla risposta del sindaco Radica sul progetto da 4 milioni del basso Sangro Trigno. Ma alla regione dicono di non saperne nulla per ora. In taglio medio, Wine Tour in Abruzzo, 45 buyers esteri. Tre giorni di incontri con 50 aziende vitivinicole. Oggi la giornata finale al Marina di Pescara. Siamo alle pagine della cronaca di Pescara. Come abbiamo visto nella prima pagina, tra i temi trattati, c'è questa appunto delle condizioni delle strade all'interno della città. Tant'è che il centro titola giungla d'asfalto, buche e percorsi dissestati. Cresce la protesta in città. Aumentano le cadute dei ciclisti e pedoni. Sospiri di Forza Italia rischi per l'Iron Man. Il Comune avvia le prime opere, ma solo per 14 strade. A disposizione dell'amministrazione 590 mila euro per fare pochi interventi di manutenzione. Già completata via del circuito. Ora in programma ci sono via Tiburtina, via Firenze e via Rio Sparto. E in questa tabella c'è il assunto dei lavori completati e quelli da fare e da completare. Avanti ancora le spese dell'amministrazione. Il logo del Comune ci costa 24 mila euro. La decisione della Giunta serve subito. Un marchio per il turismo, revocato il concorso di idee. Ora si tratta con le agenzie. E per la Fontana a secco ne mancano 22 mila. Sopra il luogo della Commissione in piazza Le Laudi. Il Comune non ha i soldi per poterla riparare. E poi le parole di Cerolini di Forza Italia. E' vergognoso. Propongo di fare una colletta tra i cittadini. Ancora atti osceni in luogo pubblico. Sesso in stazione. Coppia multata. Maxi sanzione da 6.600 euro per un uomo e una donna scoperti dalla Polfer. Sempre per la cronaca. Rapina sul lungomare. Presi due bulli. Uno di 15 anni e l'altro di 16. Hanno rubato telefono, sigarette elettroniche e soldi a un giovane. L'amico è riuscito a fuggire. Sempre per la cronaca. In basso. Il romeno confessa e resta in carcere. L'uomo ha ammesso di aver accoltellato la compagna per gelosia. Ma non la volevo uccidere. Cento anni dopo la grande guerra. Epigrafe in memoria dei tre civili caduti per le bombe del 1917. Cerimonia al Ferrotel con i rappresentanti delle istituzioni civili e militari. I lavori autofinanziati da Paola Marcheggiani. E allora vediamo il servizio realizzato ieri dalla nostra redazione. Diceva nel suo breve discorso non bisogna dimenticare, non bisogna far sì che le giovani generazioni soprattutto dimentichino quello che è successo a Pescara. E' una vestigio, una traccia che abbiamo voluto recuperare della nostra storia cittadina. Questo recupero è avvenuto anche attraverso un atto di generosità individuale dell'assessore Paola Marcheggiani che ha materialmente finanziato il recupero di questa lapide. Non solo a dire il vero con il taglio della propria indennità. Pur essendo una città giovane abbiamo tante storie da raccontare, abbiamo tante storie, tante circostanze da far conoscere a chi non c'era. È stato ricordato che 100 anni fa qui c'era un corteo che partiva dall'allora municipio, l'attuale conservatorio, e che giungeva fin qui. Siamo al Ferrotel di Corso Vittorio Emanuele. E quindi vogliamo recuperare proprio questa dimensione che 100 anni fa vedeva tanta gente partecipare in ricordo di un evento bellico, tragico. Perché anche durante la Prima Guerra Mondiale gli austriaci bombardarono Pescara. Bombardarono nell'ambito di una missione che prevedeva di colpire le fabbriche di bussi. Ma visto che ci si trovavano hanno sganciato anche delle cose su Pescara, delle bombe che hanno fatto tre morti. E quindi ricordiamo questa circostanza. Proseguiamo sempre sul centro. I gialli a tavola, il cibo preferito dei grandi detective preparato a scuola. Riesplode la tendenza del food noir tra gli studenti dell'istituto alberghiero, rielaborati alcuni piatti del passato. E poi mare. La situazione resta critica nella zona antistante via Balilla, che è sempre quella appunto che riserva le maggiori incertezze in termini di balneabilità. Pagine di Montesilvano. L'opera contestata filo via spreco per i lavori esposto alla Corte dei Conti. L'associazione Carrozzine determinate accusa marciapiedi sbagliati, disattese le regole per assicurare l'accessibilità ai disabili, alle mamme e agli anziani. In Basso, Riviera e Via Vestina, il futuro è in Bici. Il Dipartimento di Architettura presenta i progetti per la mobilità sostenibile. Così si batte il traffico. Ieri anche le nostre telecamere erano presenti a Montesilvano per la presentazione di questo progetto che è stato fatto in sinergia dal Comune di Montesilvano con la Facoltà di Architettura dell'Università di Pescara. Vediamo. Sindaco, un progetto importante è questo in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell'Università Chieti-Pescara. Si parla di laboratorio urbano. Ci sono prospettive importanti per la città di Montesilvano sotto questo punto di vista? Sì, la città cresce, è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi anni, però i collegamenti, la viabilità, la sostenibilità degli spostamenti non ha seguito questa crescita esponenziale. Ecco perché abbiamo avviato questa interlocuzione di grande spessore e di grande valore con la Facoltà di Architettura di Pescara per mettere in pratica una serie di sinergie che possano dare valore a quella che è la sostenibilità alternativa sul territorio e soprattutto efficientarla in una chiave di integrabilità tra il trasporto pubblico, il trasporto veicolare privato, ma anche e soprattutto le piste ciclabili e le altre mobilità che nel frattempo andremo ad individuare per rendere più gradevole soggiornare a Montesilvano, spostarsi con più rapidità. È uscito fuori che ci sono una serie di occasioni per Montesilvano e soprattutto è uscito fuori che questo laboratorio urbano oggi presenta il primo anno di ricerca, dopodiché ci apriremo alla città nel secondo anno, così come previsto nel protocollo di intesa che abbiamo firmato tra Università e Comune di Montesilvano lo scorso anno. L'Università ha posto a bando, grazie al Comune di Montesilvano, una serie di borse di studio che sono state vinte, per nostra fortuna, da persone che operano, da architetti che operano nel territorio e che quindi i benefici della ricerca sapranno anche riverberarli in maniera positiva su Montesilvano, su questa zona, perché io credo che la strada parco sia ancora una grandissima occasione sulla quale occorre fare delle riflessioni non soltanto teoriche, ma capire quali sono gli ambiti applicativi nei quali si può realmente cambiare qualcosa. Proseguiamo con la nostra rassegna sul centro. A Spoltore il Mammut diventa un museo di auto. Il sindaco ricandidato svela il progetto per abbattere e ricostruire l'incompiuta. Domani è la presentazione in Comune, ma i soldi per i lavori non ci sono ancora. Poi ancora a Francavilla, bagni vietati alle foci dei fiumi. Il sindaco firma l'ordinanza. Ha pubblicato ieri all'albo pretorio del Comune il provvedimento che limita la balneabilità solo in tre tratti di mare del litorale cittadino a nord e a sud dell'Alento e di Fosso San Lorenzo. C'è questa tabella che dà ulteriori spiegazioni in merito. Sempre Francavilla, rumori dei treni, le risposte dopo l'estate. RFI risponde alle sollecitazioni del sindaco sui nuovi sistemi di risanamento acustico. Siamo a Penne, se aumentano i malati li trasferiremo dal 18 maggio. Personale ridotto nell'area medica, protesta l'assessore di Donato, Paolucci. Misure ordinarie. Poi le parole di Rossano Di Luzio. Ho firmato il provvedimento perché bisogna far riposare i lavoratori. È un obbligo di legge da cui non possiamo sottrarci. Sempre in tema di sanità, a popoli, in servizi sanitari ridimensionati, il movimento avanti tutta rilancia le proposte sull'atto aziendale. Pagina di Chieti. Siamo all'università e all'imminente elezione del nuovo rettore Capasso stupia il candidato di Ilio. L'antropologo attacca il direttore del Dipartimento di Psicologia. Lui non replica e non parla della passata gestione. Poi in basso, a San Salvo, alla Pilkington, confronto su 190 esuberi, contratti di solidarietà senza rinnovo, di cola della CGL. Dateci i lavori commissionati fuori. La pagina dell'Aquila. Paura Celano, travolto dalla porta sul campo di calcio. Il bimbo di otto anni, operato a Roma, in serata le condizioni sono migliorate. Indagini dei carabinieri per ricostruire l'accaduto. In taglio medio, chiarezza sul licenziamento di Antonella e la presa di posizione della Will. Una vergogna se la denuncia corrisponde al vero. Andremo in fondo a questa storia. E poi in basso, restando sempre in marsica, danneggiata l'auto del presidente Paris. Se il patron dell'Avezzano incolpa gli ultra, che da mesi lo contestano. Atto di stampo o mafioso, ha detto il patron biancoverde. La pagina di Teramo. Conti correnti svuotati. Ammanchi alla BNL. Bancaria a processo. Firmata la citazione diretta per la donna sparita e ritrovata. La procura le contesta episodi di prelievo risalenti già al 2002. E poi ancora, in taglio medio, anziano travolto dalla bici acquisiti filmati. A Sant'Egidio ha ascoltato alcuni testimoni dopo l'apertura dell'inchiesta sulla morte dell'uomo. E poi per la cronaca, a Corropoli, in fuga dopo la rapina ad Ascoli, caccia a tre banditi. Sono le 7 e 27 minuti. Noi ci fermiamo, diamo lo spazio alle previsioni meteo, poi alla pubblicità e poi rientriamo per la seconda parte di mattino 6. Di nuovo buongiorno. È la seconda parte di mattino 6 che riprendiamo con il messaggero Abruzzo. Ospedali più assistenza, ma i conti non sono ok. Il verbale post commissariamento, troppi interventi al femore cesarei. Il 15,9% dei pazienti costretto a rivolgersi a strutture fuori regione. Le parole dell'assessore Paolucci, anche i parametri economici stanno migliorando grazie ai nuovi criteri di contabilità. E poi i distributori di profidattici nelle scuole, disegno di legge del consigliere Leandro Bracco, scelta facoltativa delle direzioni didattiche. In basso, nuovi lavori dal textile design all'arte di tagliare la frutta. Un mese di corsi di formazione gratuiti organizzati dalla CNA, ventaglio di proposte inedite. A Pescara, la cronaca, rapine e prepotenze della baby gang. Lui, 16 anni, l'amico 15, terrorizzavano i coetanei in pieno centro. Ieri la mobile li ha arrestati per ordine della procura minorile. Due episodi al cuore delle indagini. Le vittime di 17-19 anni, intimidite e derubate di soldi, iPhone e sigaretta elettronica. Sono pericolosi, non li denunciate. La polizia ha dovuto fare breccia nel muro di timori e omertà. Svuota le tasche, altrimenti non esci vivo. Sale la preoccupazione per le scorribande della mala giovanile. E poi, in basso, l'ho colpita per gelosia, ma non volevo ucciderla. La versione di Costantin Chirita, il romeno arrestato, per aver colpito con una coltellata la fidanzata. E poi, prostituta con l'HIV, gli esperti fate il test. La deputata Amato, la conoscenza riduce i rischi. Il professor Parruti, prenotazioni facili, grazie al web. Restiamo a Pescara. Ponte Nuovo del Rio, sfratta i Bersaglieri. Invitato da D'Alfonso, il ministro sarà disponibile il 15 giugno. Niente più fanfara il 20 maggio per il radumo delle piume nere. Dietro il rinvio, una giustificazione tecnica. L'installazione dei parapetti luminosi richiede lavori fino alla fine del mese. Poi ancora, la decisione dopo l'incontro del governatore al ministero per investimenti sulla ferrovia. In taglio medio, leggiamo al mare con il bus navetta dallo stadio alla riviera sud. La proposta lanciata dall'assessore civitarese agli operatori balneari viene chiesto un contributo. In basso, una copia della Costituzione, il dono del sindaco ai diciottenni. Al massimo, oltre mille neomaggiorenni. Iniziativa promossa dall'assessore Allegrino alla presenza del prefetto Provolo. Siamo nel Pescarese, campanile lesionato, caccia ai soldi a Montesivano. Da Regione c'è i fondi col contagocce per la chiesa terremotata. Il restauro di San Michele, atteso dal 2009, i primi 150 mila euro non arriveranno prima di luglio. E a Francavilla, fiume lento inquinato, Pescara torna il divietto in via Balilla. Il comune vieta i tuffi a Fosso San Lorenzo, la pubblicazione dei dati dopo l'affondo del forum H2O. Avanti ancora con le pagine dell'Aquila partendo dalla politica. Sette liste a sostegno di Biondi, in Lizza pure, Deramo e Placidi. L'Aquila Futura ha presentato ieri le candidature di Bignotti e Splendiani. L'imprenditore Vitiminicolo è vero, ho mandato un curriculum a Matteori. A sorpresa con Udc e Ncd torna in pista anche l'ex vicesindaco della giunta Tempesta. Il leader della coalizione, noi uniti a sinistra insieme, solo per il potere. E poi di spalla la Dio a Paolone, Paolone Rossi, nella Basilica Gremita. Sindaco ex Gloria e l'Aquila Calcio per rendere omaggio alla bandiera cittadina. E poi ancora in basso, sempre per la politica, rifondazione e l'Aquila Chiama, accordo fatto. Restiamo all'Aquila. Ater partono i lavori in via Spaventa. Sono stati aggiudicati per 2,3 milioni a una ditta di Catanzaro. Si apre invece lunedì la gara per un edificio del complesso Il Moro. Consentiranno a 12 famiglie di poter far rientro a casa. Grande attesa anche per i fondi per gli alloggi in via Amiternum. Moltiplicate le proteste dei proprietari che pagano mutui su abitazioni inutilizzabili. E poi ancora il Casella con De Scalzi, un concerto d'eccezione. Il fondatore dei New Trolls. Suonare in questa città è per me una emozione forte. In Marsica, nuova acceieria al posto della Vesuvius. L'Oglio, un gruppo di dirigenti italiani, riprenderà a produrre con finanziamenti regionali nel sito della multinazionale. Da El Foundry alla Burgo, a Santa Croce, a Telespazio e così abbiamo salvato il territorio sostenendo l'industria. L'incontro con Giuseppe Di Pangrazio e Berardinetti frecciate a Gerosolimo. E poi a Sulmona i furbetti del cartellino. Ne usciremo puliti. Molti dei 24 indagati chiederanno l'interrogatorio nella convinzione di ottenere il proscioglimento. Andiamo avanti e siamo alle pagine di Chieti e Provincia. Rischio corte dei conti per le consulenze sul nuovo ospedale. La parola al consigliere regionale Mauro Febbo. La ASDA ha già speso 70 mila euro ottenendo un risponso negativo sulla fattibilità del project financing. La decisione del manager Pasquale Flacco contestata dal presidente della commissione di vigilanza del Consiglio regionale. Il nuovo incarico mortifica le professionalità interne e dimostra la sottomissione al governatore. E poi ancora orgoglio progetti stop ai conflitti. Le parole d'ordine dei candidati rettori. I sei candidati hanno affrontato il confronto con l'assemblea di personale, docenti e studenti. Per la cronaca, Silvia e Giuseppe, come i morti del 97, tragedia annunciata, quella dei coniugi di Scerni. Vent'anni fa sulla stessa riva dell'Orta persero la vita tre studenti universitari. Donato d'Ercole chiama in causa i vertici del Parco Maiella. Nessuna imprudenza. Quei sentieri non sono in sicurezza. E accanto alla foto della coppia che è morta in questa fatalità, in questa tragedia, ci sono le prime pagine dell'epoca con il richiamo di quanto avvenuto nel 97, quando, come detto, tre studenti morirono proprio con la medesima dinamica. L'ultima foto della coppia scattata dalla sorella di lei è Ivani Tentativi di Salvataggio. A Lanciano, Villa delle Rose e Parco, allo stadio Aperti di Sera. L'amministrazione tenta l'iniziativa sperimentale affidata anche la manutenzione dei giardini. Avanti con le pagine di Teramo. Brucchi adesso scommette su una giunta di sei assessori. Netto ridimensionamento per i gattiani e per il nuovo NCD. Giro di incontri. Dodo di Salvatino riflette se restare o puntare sulle prossime regionali. Gianguido D'Alberto, capogruppo del PD, questa crisi resta confinata nelle segrete stanze. È un assurdo. Intanto Canzio presenta una serie di iniziative per il weekend nel centro storico. Poi un nuovo monito del Vescovo Monsignor Seccia. La metà delle chiese, evidentemente della diocesi, è inagibile. Poi ancora muore investito dai ciclisti. I primi indagati in procura. La dipendente infedele della BNL non ci sarà udienza preliminare per l'ammanco. Siamo sulla costa a Giulianova. Mare ok. Anche i prelievi sul Tordino. L'arta ha reso noto ieri l'atteso risultato delle analisi nella zona notoriamente più a rischio della costa cittadina. Resta il problema della foce che non è in asse con il litorale. Tutta l'acqua molto spesso viene deviata verso la spiaggia sud. Se ne dovrà parlare con D'Alfonso che ha spostato la riunione sull'ospedale. E poi ancora a Santomero il comune evita il dissesto finanziario. Decisione del TAR che boccia a distanza presentata dalla minoranza. E con questa notizia possiamo lasciare per ora il messaggero Abruzzo. Ci torneremo poi con le pagine dello sport. Possiamo approdare la città, il quotidiano della provincia di Teramo. Andremo a sfogliare le pagine interne prima di arrivare alle pagine dello sport. Allora teniamo un attimo che si ristabilisca la nostra connessione. Siamo dunque sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Ecco qui, niente parco della scienza per l'ufficio Sisma. Dopo sei indicazioni da parte del comune la sede resterà invece al Palazzo del Genio Civile. Arrivata dalla provincia la soluzione che ha messo a disposizione dei locali in via Irelli per allestire l'URP dell'ufficio speciale della ricostruzione. In basso, a Isola del Gran Sasso, l'ingresso del cratere non è servito per colmare i ritardi dell'amministrazione. Crescita comune attacca, cimitero ancora inagibile, progetti per le scuole fermi al palo e luoghi di culto abbandonati. Avanti ancora, siamo alla crisi nel comune di Teramo. Crisi al buio, senza alcun passaggio in consiglio. Nessun confronto pubblico sui problemi della maggioranza. La minoranza prepara un dossier per il commissario. Meno sette. Tra una settimana scade il termine ultimo per il ritiro delle dimissioni del sindaco Maurizio Brucchi. La quadra, sulla nuova giunta a Sepoltrone, ieri si è fatta strada in maggioranza. E' questa dunque l'ipotesi dell'esecutivo cittadino A6 con questi nomi. Franco Fracassa, Katia Provisiero, Dodo Di Sabatino, Valeria Misticoni, Mirella Marchese e Roberto Canzio. E intanto domani sera ci sarà la peristretta in Piazza Martiri. Due mercatini di Poggio San Vittorino e quello dei Fiori si ibridano. E poi ancora, sempre sulla situazione in comune, la posta dopo il taglio degli scranni e le attenzioni rivolte ai dissidenti torna a rialzarsi il tiro nei confronti del Presidente del Consiglio, Milton Di Sabatino, blindato però dai numeri dell'elezione. E poi leggiamo Dodo conferma il patto, io democristiano come Sandro Mariani. Intanto dopo le primarie Renzi torna a essere il suo Presidente. Successo tutto al femminile al premio Teramo, tre le vincitrici della 44esima edizione. Applausi per Corrado Augas, poi l'omaggio a Gian Mario Sgattoni. Soldi spariti, bancaria a processo, citazione diretta a giudizio per il caso Ammanchi al BNL. Siamo alle notizie dalla provincia di Teramo. GLM punta ai mercati di Messico e Stati Uniti. L'azienda automotive di Castellalto perfeziona l'acquisizione della società satellite americana. L'azienda è nata nel 98 per volontà di alcuni imprenditori ed ora è una delle società leader a livello internazionale nel settore della lavorazione a freddo dell'acciaio. La GLM ha chiuso il 2016 con un monte ricavi di 60 milioni da lavoro a più di 400 dipendenti. E poi ancora per il post-sismo dalla regione 750 mila euro per rendere sicuri gli asili nido Teramani. Raggiunta ha approvato lo strumento per il cofinanziamento destinato anche a Giulianova, Atri e Nereto. Primi indagati per il nonno investito. Siamo a Sant'Egidio, la Vibrata. La procura cerca i responsabili della morte dell'83enne travolto dai ciclisti. Alfredo Pizzagallo è stato investito durante la gara ciclistica trofeo città di Sant'Egidio. E poi ancora D'Alfonso dà un'altra buca al sindaco. Il governatore rinvia l'incontro sull'ospedale a causa del Giro d'Italia. Era stato lo stesso D'Alfonso indicato il 13 maggio come data. Ieri è arrivato il ripensamento. E poi concordato alla G-Plast di Giulianova, le parole di Peppino Marozzi. Il mio unico interesse è salvare i posti di lavoro. Siamo a Roseto, stagione a rischio per lo storico Lido. La Lucciola potrebbe non riaprire a causa dei ritardi sull'affidamento. La soluzione del caso ci sono interessati gli amministratori che oggi saranno nella sede della regione. E poi ancora Addio a Mari, protagonista rosetano per mezzo secolo, organizzatore di attività sportive, spettacoli e dello storico concerto di Baglioni. Andiamo alle pagine dello sport. Parliamo chiaramente di Teramo. Amadio, Teramo, basta parlare. Ora i fatti. Il centrocampista Biancorosso dice che i tifosi sono giustamente delusi. Noi abbiamo il dovere di dimostrare che si sbagliano. Salvezza diretta o play-out, credo, dice il centrocampista, che abbiamo ancora delle possibilità di salvarci. Ma tutto passa per quello che faremo noi a Salò. Intanto Spighi verso il recupero. Out, Tempesti e Petrella che non sono stati convocati. Stamani la squadra partirà alla volta della Lombardia. Combinazione giusta. Il Teramo sarebbe salvo se vince e se il Mantova non fa risultato pieno contro il Sud Tirol che a sua volta è già salvo. Andiamo ad ascoltare le parole del centrocampista Amadio. Io ci credo. Penso che dall'arrivo del mister ci siamo compattati tanto. Abbiamo una media che comunque se fosse cominciata all'inizio anno saremmo salvi alla grande. E quindi io credo che abbiamo grandi possibilità di salvarci. È chiaro che poi dipende da noi perché di chiacchiere ne abbiamo fatte tante e di risultati un po' meno. Però io ci credo. I tifosi è normale che quando c'è stato da prendersi gli ad oggi ce li siamo presi. Quando le cose vanno meno bene è giusto che ci prendiamo anche qualche critica. Credo sia normale. Questo deve essere uno sprono per noi a fare meglio e a dimostrare che si sbaglia. Dobbiamo cercare di fare meglio nella fase di sviluppo, nella fase offensiva. Creiamo un po' poco e concretizziamo ancora meno. Però ci sta che ci stanno gli errori e speriamo che domenica vada meglio. No, ho dato merito ai giocatori del Modena che hanno fatto, penso, il loro. Ci spieghiamo che anche il Sud Tirol le faccia lo stesso. Questo però deve essere accompagnato sempre e solo dalla nostra vittoria, se no servirà poco anche quello. Se mi avessero chiesto a chi dove capita una palla del genere, se gli ricapitano altre dieci volte, fa dieci gol. Però sono cose che succedono, io stavo proprio lì dietro, penso l'abbia presa un po' male. Poi comunque al 93esimo, dopo una partita di grande corsa, di grande sacrificio, ci può stare un errore. Però se lo sarà tenuto per domenica. Marco penso che con l'esperienza che ha non bisogna dirgli niente. Anzi, è carico come sempre e speriamo in lui per domenica. Queste le parole del centrocampista del Tearamo Stefano Amadio. Possiamo lasciare la città. Stiamo per vedere le pagine dello sport, del messaggero e del centro. Allora, ripartiamo dalle pagine del centro. Intanto vediamo quella dedicata al Giro d'Italia. Giro d'Italia al Via, tutti a caccia di Nibali, ma è già in cubo doping. Oggi partenza da Alghero, Pirazzi e Ruffoni, due ciclisti della Bardiani, trovati positivi. E qui i tre abruzzesi che partecipano al Giro. Parliamo di Giulio Ciccone, di Dario Cataldo e di Giuseppe Fonsi. Chiaramente, ci ricordo il centro, il 14 marzo, il Giro al Blockhouse. L'Abruzzo, appunto, rappresentato da Cataldo Ciccone e l'esordiente Fonsi. Siamo, a quanto visto già sulla prima pagina, sorpresa a Casal Bordino. Ecco Platini, l'ex presidente UEFA e stella della Juve, oggi a Guilmi per la festa di San Nicola. E qui uno scatto che ritrae, appunto, l'erroi Michel Platini con lo staff dell'hotel Aragosta di Casal Bordino, dove ieri ha cenato Platini. Siamo alle vicende societarie del Pescara. Sebastiani ha gli annascoli, hai la coda di paglia. Il maggior azionista del Delfino, sorpreso dalla mossa dell'ex amministratore delegato, potrebbe far partire una controquerela. Mai fatto riferimento alla sua persona, dice Sebastiani, se si è sentito toccato è un problema suo. Forse ha bisogno di visibilità, ma ora i miei legali valuteranno la questione. E poi questo scatto da Striscia alla notizia con Montari, che rifiuta il tapiro d'oro che gli voleva essere consegnato dall'inviato di Striscia Staffelli. Ecco qui Staffelli al poggio per incontrare Montari, ma il ganese tira dritto e rifiuta il tapiro. In basso Martella, Zeman, nessuna voglia di rivalza. Nel 2011 il terzino pinetese del Crotone, mai in campo col Boemo. Ero acerbo, ma un giorno vorrei tornare, dice Martella. E poi ancora per la Lega Pro, la vecchia guardia scuote il teramo. Basta chiacchiere, il diavolo domenica deve battere la Feral Pisalo e sperare. Speranza e Amadio, la salvezza diretta, proviamoci. Poi ancora Vastese per il futuro, si pensa a Del Grosso, il tecnico dell'Agnonese, prossimo avversario di Biancorossi. In pol per la panchina, tre nomi per la casella del direttore sportivo. E siamo alla pallacanestro, la carica di Amoroso. Avanti Roseto, prendiamoci gara 3. Sharks stasera in campo per il terzo atto dei play-off con Legnano. L'ala bianca-azzura chiama raccolta i tifosi. L'arma in più. Invece Bartocci spera in Davis, deve darci la mano in questi due match. Progeri in campo a Reggio Calabria per il terzo round dei play-out. Il tecnico teatino confida in una grande prova dell'americano. Se questa sera si gioca per play-off e play-out dia 2. Ieri si sono giocate le gare 2 dei play-off di Serie B. Trionfo amatori, mentre Campli sciupa tutto. I pescaresi vincono gara 2 con Balmontone e vanno in semifinale. Farnesi KO a Forlì, domenica si giocano il passaggio del turno. Vittoria netta per l'amatori, vediamo. 88 a 66 con 23 punti di Pepe. Mentre per Campli sconfitta di misura. 80 a 75, laddove per la compagine farnese non sono bastati. 19 punti del play Bottioni. Possiamo lasciare il centro. Andiamo a chiudere con il messaggero. Peraltro stiamo per proporre anche una intervista a Gianluca Caprari. Peraltro ci sono le parole dello stesso Caprari proprio sul messaggero. Ecco qui Caprari è l'addio. Serie A buttata. Pescara tiene banco nello spogliatore ancora il caso Salle Montari. Quei cori in campo li abbiamo sentiti tutti. Bisognava sospendere. Non pensavo di poter ripetere l'esperienza del 2013. I fischi dei tifosi dispiacciono. Però io ho sempre dato il top. E allora ascoltiamo le parole di Gianluca Caprari. Caprari siamo arrivati all'epilogo di questa stagione. Ultime tre giornate di campionato. Domenica arriva il Crotone. Partita importante soprattutto per i Calabresi. Noi dobbiamo pensare a noi per quel poco che rimane. Cerchiamo di magari riuscire a fare dei risultati positivi almeno nelle ultime due in casa. All'andata ci fu questa sconfitta anche immeritata del Pescara. Non giocò il Delfino una buona gara. Però ci fu questo KO cercherete tra virgolette di rifarvi contro i Pitagorici. Adesso l'importante è finire almeno con due vittorie se ci riusciamo in casa. Sicuramente non è facile sapendo che già siamo retrocessi a partire dalla fine. Però siamo dei professionisti quindi dobbiamo cercare di dare il massimo fino alla fine. Come detto prima in casa di cercare di almeno regalare queste due vittorie. Giocherete in uno stadio semideserto anche dal punto di vista ambientale. Non sarà molto bello giocare questa partita. Molti tifosi non verranno. Ci sarà la curva vuota. Però voi ovviamente cercherete di fare il vostro. I tifosi hanno scelto questa via come è giusto che sia perché comunque abbiamo fatto un'annata disastrosa. Perché il retrocedere a sei giorni dalla fine non è bello. Quindi dobbiamo pensare a noi e fare il massimo. Tra l'altro ci sarà la penultima apparizione quest'anno all'Ostelio Adriatico anche di Gianluca Caprari che il prossimo anno giocherà lontano da Pescara. Sì, credo che siano, come hai detto tu, le ultime partite che farò qui. Sicuramente mi dispiace perché ho passato degli anni belli e dispiace dopo sei stagioni lasciare. Cosa ti resterà di questa stagione? Di questa stagione, devo dire, sono tante le cose negative che però sicuramente apprenderò di più. Ecco, quindi si migliorerà sempre quando si perde. Quindi spero che questa lezione mi sia servita per il futuro. Sul messaggero Lega Pro, Speranza, Teramo obbligato a vincere e sperare. Nel centrocampista dobbiamo battere la Feralpi Salomo, potrebbe non bastare. Petrella è out. E poi ancora per la Serie D, Avezzano, danneggiata l'auto del patron Paris. La Smart Biancoverde era parcheggiata in un'area privata della villa. So già chi è stato, oggi presenterò denuncia nei confronti di tre persone. E poi ancora per il basket, Progera, Reggio Calabria, punto chiave nei play-out. Roseto, il destino è nelle proprie mani. Stasera gara 3, play-off con Legnano. Di Paolo Antonio vuole più tifo. E poi ancora per il rugby, trasferta l'Aquila. Zaffieri, precisa, la leggenda Festuccia abbandona. E poi, tornando al calcio, Pupeschi, l'Aquila può puntare al quarto posto domenica. Ci sarà l'ultima partita di campionato, prima dei play-off per la compagine Rosso-Blu. Noi ci fermiamo per quanto riguarda questa edizione di mattino 6. Vi ricordo le tre edizioni dell'ETG alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Grazie a Gianni Lareo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.